Questo è il tempo che dedichiamo alla nostra mente, al nostro corpo, per il nostro benessere. Avviciniamo le mani e cerchiamo di unire le nostre diverse parti, destra e sinistra, mente e corpo, noi con gli altri, noi con tutto l'universo. Inspiriamo e espiriamo sempre dalla bocca, solleviamo le braccia, andiamo indietro, anche se abbiamo un momento di lordosi, non è importanza, e poi ci ridurrezziamo, inspiriamo di nuovo e poi espiriamo e portiamo le mani in basso e verifichiamo quanto arrivano di distanza da terra. Solleviamo di nuovo le braccia, inspirando, e ci portiamo di nuovo nella posizione con le mani in basso. Verifichiamo di nuovo la posizione delle ginocchia, leggermente flesse, il bacino retroverso, il peso tutto in avanti, il corpo si sposta come una tavola o in avanti, contraendo le dita di piedi. Perfezioniamo un momento ancora la posizione, muovendo il bacino, ispirando e sollevando le braccia di nuovo, portandole avanti, mettendo l'impressione, in alto, sopra la testa, dietro con i pugni, muoviamo la testa e il collo alle spalle, portiamo le spalle indietro, portiamo le mani in avanti, questa volta siamo in frazione, in avanti, verso il tetto, a sinistra, in cerchio, invertendo il cerchio, sopra la testa, tirando fortemente, stimolando il cingolo scapolare, poi, di nuovo, mettiamo le mani a terra e verifichiamo se questa volta riusciamo a, pur addirittando un po' le ginocchia, a stare bene. Andiamo a sinistra indietro, mettiamo i pugni a terra, ci proteggiamo in avanti, inspiriamo, espiriamo e andiamo giù, con le mani diritte davanti a noi e sosteniamo il peso del corpo, mettendo la testa, cerca di arrivare la fronte, cerca di arrivare la terra, allargiamo le ginocchia, cerchiamo di distendere in più, distendiamo il dorso dei piedi, stiamo qualche secondo in questa posizione e valutiamo la respirazione addominale, leggera, via parmatica. Solleviamo le braccia in alto, indietro, mettiamo le mani con le vidi all'interno delle caviglie e ci portiamo avanti, la testa non molto riprendata indietro, ci sediamo sui porpacci, in inspirazione e espirazione, solleviamo le braccia, distendiamo il dorso dei piedi, andiamo indietro, mettiamo le mani sulle piante, e ci sediamo. Dopo lo sforzo, abbandoniamo completamente i gommiti a terra, abbandonati, senza nessuna tensione in nessuna parte del corpo. Respiriamo, controlliamo la respirazione addominale, quando lentamente tra l'altro.